e cari iscritti eccoci questa nuova puntata di minecraft snapshot benvenuti nello snapshot 22 w 44 a e c'è un motivo se sto usando proprio le barrier per farvi vedere il titolo di questo episodio ma arriviamoci passo per passo prima di tutto in questo snapshot non ci sono novità che riguardano la 1.20 ma soltanto novità di quality of life quindi miglioramento del gioco della vita del gameplay anche se vogliamo che arriveranno invece nella 1.19.3 direi di non perderci troppo in chiacchiere di partire quindi subitissimamente con il video di oggi ma prima vi ricordo di entrare all'interno del mio server discord di cui trovate il link qui sotto in descrizione il tutto chiaramente per non perdervi futuri annunci speciali che potrebbero avvenire soltanto nel server discord e poi se non volete perdervi i prossimi video sugli snapshot vi consiglio magari se vi va di iscrivervi al mio canale youtube detto questo possiamo partire ho detto sì che non c'erano cose che riguardavano la 1.20 ma in realtà un paio ce ne sono ma sono soltanto piccoli cambiamenti vi ricordo la 1.20 comunque non è ancora finita ci saranno altri aggiornamenti che arriveranno a questo punto nei prossimi mesi avrebbero dovuto annunciare qualcos'altro al minecraft now ma così non è stata hanno soltanto fatto vedere del gameplay in diretta quindi peccato dovremmo ancora aspettare però questo vuol dire che quando arriverà il momento di aggiungere altra roba cose nuove alla 1.20 lo vedremmo in prima persona all'interno degli snapshot quindi secondo me è anche meglio così comunque la prima novità riguarda il bambù mosaic questo qua che può essere utilizzato adesso come carburante non so quanto cuoce proviamo a intuirlo forse vi dirò è il 6 no ok è 2 forse meno di 2 fatemi togliere questo vediamo un po e sì è meno di 2 è meno di 2 che forse dipenda dal modo in cui si crafta un blocco di questo qua e quindi si basa di conseguenza sul bambù effettivo potrebbe essere vi faccio vedere per cuocere un or con il bambù semplice si utilizzano vediamo quanti no 4 4 non so contare si utilizzano 4 di bambù bene il mosaico il mosaico si crafta con è un po difficile perché il mosaico si crafta con le slab ogni slab o meglio 3 slab 6 slab sono 3 di questi quindi 3 blocchi praticamente il rapporto qui non cambia e quindi questo qua sarebbe un blocco di bambù normale a proposito questo qua quanto cuoce cuoce si può usare per cuocere si può usare vediamo se è uguale forse si forse cuoce l'esatto si 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 ok quindi i blocchi di bambù questi qua o meglio i blocchi interi almeno cuociono lo stesso quantità che circa 1 e 3 quarti 1 e 75 1 e 8 comunque non è di sicuro due blocchi altro cambiamento sempre per quanto riguarda la 1 a 20 lo abbiamo per queste bellissime cisa red bookshelf che adesso accettano gli oggetti da un hopper qui sopra guardate un po buttiamo tutte queste cose qui in alto e guardate questa qui sotto si è riempita chiaramente l'hopper funziona anche da sotto quindi volendo potrei fare una cosa orribile del tipo questa ok e quindi gli oggetti stanno finendo in quest'altra ma penso che avete capito oddio in questo momento sto pensando si potrebbero fare delle biblioteche automatiche e qui da una parte si mettono i libri e quella man mano si riempie tutta oddio che figo lo voglio realizzare tipo subito però dovrò purtroppo aspettare la 1.20 che è ancora lontana comunque vi stavo dicendo si può chiaramente sia inserire all'interno di una bookshelf queste qua chiaramente sia rimuovere quindi facciamo così fanno facendo anche prima questo rumore non me lo ricordo vedete che se metto le cose qui sotto magari mettiamo 64 libri arriva lì poi qua non può più entrare si sta riempendo l'hopper ok questo non dovrebbe succedere rompiamo l'hopper vedete che inizia a riempirsi questa e se rompo questa inizia a riempirsi anche quest'altra qui sopra chiaramente ecco questa è una cosa che impedisce a me di creare quello che volevo fare perché ci sono gli hopper che danno fastidio magari con i libri incantati però neanche perché rimarrebbero comunque almeno 5 libri qui dentro vabbè ci ho provato comunque in poche parole adesso le librie casellate e cisellate interagiscono con gli hopper sia per inserire che rimuovere gli oggetti e arriviamo adesso ad un capitolo del video che vedete spesso in questi ultimi snapshot e che riguarda la gestione dell'inventario creativo perché questa volta abbiamo davvero delle cose molto molto su cose e la nostra prima tappa riguarda qua i blocchi di redstone in fondo a questi blocchi soltanto se abbiamo i permessi di operatore quindi siamo admin in un certo senso del server qui in basso troveremo i blocchi speciali operatore così li chiamano e che sarebbero i tre tipi di command block il blocco jigsaw lo structure void il blocco barriera ecco perché il titolo l'ho fatto con le barriere il blocco di luce che l'avevo menzionato nello scorso snapshot e il debug stick e tra l'altro qui sopra notavo abbiamo anche il minecart con il command block quindi buono 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 una cosa che sto notando che non c'è è lo structure block che effettivamente me lo sarei aspettato magari al posto dello ho sbagliato dello structure void questo qua che effettivamente lo structure void è soltanto un blocco placeholder utilizzato per indicare all'interno di una struttura quali blocchi sono vuoti quindi quali blocchi sono aria mentre al suo posto mi sarei aspettato questo qua uno structure void vediamo se c'è magari me lo sto perdendo no non c'è però ecco già avere i command block il debug stick la barriera e il blocco di luce nell'inventario in creativa secondo me è tanta tantissima roba facciamo poi un salto ai blocchi funzionali dove è stato aggiunto il vetro oscurato eccolo qua e l'alveare che comunque hanno delle funzioni quindi è giusto che stiano all'interno dei blocchi funzionali è stata spostata poi la respawn anchor prima dei letti magari perché questa è una e questi sono altri 16 quindi sapete è più comodo da trovare qui e in questa tab sono stati poi spostati il blocco frame del portal land portal frame e i blocchi infestati che prima si trovavano nei natural block vengono poi menzionate le pressure plate in questa schermata anche se dovrebbero essere anzi sono nei blocchi di redstone e quindi oltre ad essere state riordinate le pressure plate per funzionalità da come dicono probabilmente da quella che si attiva con minor peso quelle di legno a quelle che si attivano con poco peso un po più di peso e con tanto peso quindi quelle di pietra ma le modifiche non finiscono qua in questa schermata perché sono state aggiunte le chest i barrel il calderone la fornace e il composter che sono tutti blocchi che in un modo o nell'altro interagiscono con la redstone e quindi è sempre comodo averli all'interno di questa schermata nei blocchi da costruzione fanno la loro comparsa finalmente le ametiste dovrebbero essere ecco qua il blocco di ametista e le catene e sempre in questa tab arrivano invece dal tab dei blocchi naturali il blocco di redstone e il blocco di carbone chissà perché erano nei blocchi naturali nella tab dei crafting arrivano gli unseen debris utilizzati all'interno di una fornace per ottenere i nederite scrap e poi le schermate building block natural block e consumabili sono state riordinate per una migliore non lo so traversabilità diciamo così non vi so dire per la precisione cosa è cambiato forse qui qualcosa si nota ma non a vista d'occhio no sinceramente non so dirvi cosa è cambiato per la precisione e per finire sono stati riordinati i blocchi creati con minerali e gemme per avere un ordine più consistente attraverso le varie schermate ad esempio qui in building blocks vediamo carbone ferro oro redstone smeraldi lapis diamante e nederite se dovessimo andare in natural block più o meno la successione è la stessa con l'unica differenza che c'è il copper in mezzo mentre quel copper sta avanti vedete qua il copper tra gli oro intendo abbiamo carbone ferro poi il copper oro redstone smeraldi gli smeraldi così me li metti anche qua ok la stessa cosa dovrebbe essere anche in queste altre schermate che già conosciamo quindi non vedo perché rivederle abbiamo poi un cambiamento molto interessante ai monster spawner e alle uova di spawn ma prima vediamo gli spawner dico monster spawner perché sono stati rinominati abbiamo sempre qua nella tab spawn eggs sono stati rinominati dicevo come monster spawner per avere una sorta di parità con la versione bedrock e in più gli è stato rimosso anche il nome in viola quindi adesso si chiamano così semplici semplici la prima cosa che notiamo è che non hanno più un mob di base prima vi ricordo era il maiale una volta piazzati non emetteranno chiaramente le particelle di fuoco se non viene definito prima all'interno un mob e per definirlo bisogna guardare il monster spawner ci dice infatti interagisci con uno spawn egg imposta il tipo del mob quindi facciamo così magari prendiamo non lo so piglin brutto preso facciamo tasto destro vedete che viene impostato iniziano le fiammelle e tra non molto dovrebbero spawnare dovrebbero iniziare a spawnare i piglin brutti tra l'altro adesso funziona anche il picking up del blocco del monster spawner e cliccando chiaramente il tasto normale ci selezionerà il monster spawner qualsiasi ma facendo shift ok non capisco non me lo sta prendendo ok non era a quanto pare con lo shift ma era con il control non chiedetemi perché comunque vedete che quando premo il control allora mi prende il monster spawner qua con tra l'altro scritto sotto il mob che dentro sta spawnando sta per spawnare diciamo qual è il mob che ha memorizzato che deve spawnare al suo interno e chiaramente piazzandolo sempre lo stesso mob ci sarà abbiamo poi delle novità per quanto riguarda gli spawn eggs fanno la loro comparsa nel gioco ben 4 nuove spawn eggs e la cosa vi piacerà abbiamo prima di tutto un cambiamento che riguarda l'uovo di orso polare che è stato cambiato per quanto riguarda i colori adesso è un bianco un pochino più caldo un bianco latte a differenza del bianco così spento triste del ghast in modo che si differenziano i due ma non è questo l'importante perché fanno la loro comparsa questo uovo l'uovo di iron golem e quest'altro uovo quello di snow golem oh che bello finalmente non bisogna più spawnarli creando il totem ma si può fare direttamente così e questo sicuramente farà gioire molti di voi ma non è finita qua perché vi deterrano 4 le uova e purtroppo queste altre due che vi sto per dire non sono ottenibili dall'inventario in creativa ed è una scelta voluta per evitare che ci siano situazioni di distruzioni accidentali delle costruzioni comunque queste due nuove uova che vi sto dicendo sono quello di wither e quello di ender dragon eccoli qua e si fanno esattamente ciò che dicono uno spawna l'ender dragon e l'altro spawna il wither quindi magari potremmo allontanarci un bel po' tipo tanto 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 tipo qua giù ok e vi faccio vedere ve lo dimostro che questo spawna il wither e questo spawna l'ender dragon adesso però andrò in pacifica in modo che i due ci abbandoni l'ender dragon no e allora utilizzeremo i nostri comandi per delittarlo dalla faccia della terra ecco qua ok possiamo tornare al video abbiamo finalmente le uova che però vanno ottenute utilizzando i comandi vi faccio vedere quali sono i comandi molto semplici give chiocciola s o chiocciola a chiocciola p quello che volete scrivete ender dragon spawn egg ecco qua e l'altro è wither spawn egg questo qui ci sono poi delle modifiche che riguardano i suoni della camminata dei passi che però io non ho trovato il modo di replicare a quanto pare non ho capito se è qualcosa che non comprendo o semplicemente una cosa che non si può verificare in gioco effettivamente magari soltanto una cosa di contorno comunque i suoni dei passi adesso potranno essere sentiti quando si cammina su tappeti lily pad e small amethyst buds che sarebbero questi così qua ok questi e si sentiranno anche quando il giocatore cammina attraverso il nether sprout i licheni le crimson e le warped roots quindi insomma quei blocchi traversabili tipo l'erba ok e arriviamo adesso a delle novità un pochino più tecniche che però non sono troppo tecniche ma riguardano l'aggiunta di nuove game rule per la precisione fanno il loro ingresso ben 7 nuove game rule alcune delle quali sono molto molto interessanti le prime 3 sono block explosion drop decay mob explosion drop decay e tnt explosion drop decay semplicemente cosa fanno queste 3 game rule vanno a stabilire come una di queste 3 categorie di esplosivi quindi mob tnt o blocchi devono comportarsi con i blocchi che distruggono in merito al drop di questi blocchi quindi se devono dropparli tutti o se devono dropparli soltanto alcuni a seconda di quanto più vicino all'esplosione stava il blocco una tnt ad esempio rompe i blocchi e droppa esattamente lo stesso numero di blocchi che è rotto quindi se io prendessi questi blocchi forse sono anche un po' di più quindi se andassi in survival potrei benissimo coprire questo buco utilizzando soltanto i blocchi che mi ha droppato effettivamente questa tnt quindi insomma quello che rompe è quello che droppa la stessa cosa non si può dire per i creeper che invece droppano meno blocchi di quelli che rompono infatti adesso ne abbiamo soltanto 9 vediamo un po' 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 e capite che il buco resta e questo è praticamente il motivo per cui molte volte quando un creeper esplode i blocchi di solito si rimettono in questo modo lasciando uno spazio sotto perché noi di minecraft siamo persone molto brutte comunque queste gamerule vanno a cambiare proprio il modo in cui queste esplosioni da mob tnt o blocchi si comportano i valori indicano la stessa cosa per tutte e tre se vengono impostate a false i blocchi vengono droppati tutti quanti quando avviene quel tipo di esplosione se viene impostato invece a vero quindi true verranno droppati meno blocchi a seconda della distanza dall'esplosione come potrete immaginare tnt explosion drop decay è impostata a false quindi droppa tutti i blocchi ma possiamo benissimo impostarla a true e quindi fargli droppare soltanto alcuni blocchi mob explosion drop decay è impostata a true quindi già di base abbiamo visto droppa meno blocchi di quelli che rompe ma possiamo impostarla a false e quindi fargli droppare tutti i blocchi che invece andrebbe a rompere bloc di base è impostata a true quindi si comporta come per i mob ergo droppa meno blocchi di quelli che va a rompere ma non ho capito effettivamente in quali casi si verificherebbe questa block explosion in quanto le tnt hanno la loro game rule i mob hanno la loro quindi non ne ho idea abbiamo poi un'altra game rule che riguarda la neve e si chiama snow accumulation height ovvero altezza di accumulazione della neve di base è impostata a 1 ma può assumere qualsiasi valore da 0 a 8 ed effettivamente anche di più ma i valori da 8 in poi si comportano tutti allo stesso modo cosa stabilisce questa game rule? stabilisce quando nevica quanti strati di neve devono accumularsi su un blocco solido quindi 0 vorrà dire che la neve non si accumulerà mai 1 vorrà dire come adesso che si potrà accumulare soltanto uno strato di neve e i numeri maggiori vorrà dire 2, 3, 4 strati di neve fino ad arrivare a 8 o superiore che vorrà dire ve lo faccio vedere 8 strati di neve che altro non sono che un blocco intero per cui sopra questi 8 strati si potranno iniziare ad accumulare altri blocchi penso non ho provato ma potrebbe essere così e questo vorrà dire che se ci troviamo in un luogo dove non abbiamo mai tolto la neve ci potrebbero essere tipo blocchi e blocchi e blocchi di neve e la cosa si fa interessante ma la cosa si fa ancora più interessante se prendiamo in considerazione le prossime 2 game rule due game rule che vanno a interessare il modo in cui l'acqua e la lava formano le loro sorgenti si chiamano water source conversion e di base è impostata a true questa qui e l'altra si chiama lava source conversion e di base è impostata a false come potreste intuire queste due game rule vanno a stabilire quando una sorgente di lava o di acqua deve generarsi nel caso due sorgenti di quel liquido vengano piazzate in questo modo quindi di base sappiamo che l'acqua si comporta così quindi crea delle sorgenti infinite ma possiamo fare così metterla a false e quindi ecco che l'acqua non si ricrea più e questo potrebbe aprire delle possibilità a delle custom map molto molto particolari con risorse davvero limitate d'altra parte la stessa cosa possiamo farla o meglio il contrario possiamo farlo per la lava quindi magari facciamo prima così per creare la lava adesso andiamo a prendere questa sorgente guardate cosa succede si ricrea la lava si ricrea la sorgente di lava non è incredibile questa cosa? da una parte abbiamo l'acqua che non crea più sorgenti dall'altra invece abbiamo la lava che si ricrea continuamente e per finire abbiamo poi un'altra game rule chiamata global sound events che di base è impostata a vero e stabilisce se tutti i giocatori presenti in un mondo devono sentire dei suoni particolari come potrebbe essere se non sbaglio l'uccisione dell'ender dragon che fa un rumore che possono sentire tutti ovunque si trovino nel mondo comunque stabilisce se tutti i giocatori ignorando la loro posizione debbano sentire alcuni suoni di gioco oppure no di base è impostata a vero quindi tutti i giocatori sentiranno questi suoni di gameplay indistintamente da dove si trovino impostando la false probabilmente non sentiremmo il suono di quando muore l'ender dragon se non ci troviamo nel land o nelle vicinanze dell'ender dragon di dove muore e con questo si concludono tutte le novità per quanto riguardano queste game rule ma più in generale di questo snapshot spero che vi siano piaciute ditemi quali sono le vostre preferite di questo snapshot per me sono in assoluto l'aggiunta di questi nuovi blocchi particolari all'interno dell'inventario in creativa e queste due game rule di lava e acqua le vostre magari lasciatemele qui sotto nei commenti vi ricordo la maggior parte di queste novità arriveranno nella 1.19.3 per cui non dovrebbe mancare troppo tempo mentre le librerie casellate, i cammelli e tutte le altre novità della 1.20 arriveranno sorpresa sorpresa nella 1.20 quindi più avanti detto questo vi ricordo di entrare di nuovo all'interno del mio server discord trovate il link qui sotto in descrizione e se il video è piaciuto lasciate un like, commentate ed iscrivetevi noi ci vediamo alla prossima puntata di Minecraft Snapshot e ciao ciao! ciao 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 ciao